I problemi sono due, il tempo stringe. Primo, i propulsori sono a secco. Secondo, la centrifuga gravitazionale è spenta, cioè un paio di trilioni di tonnellate di roccia ci tirano giù. Deve riattivare quella centrifuga, rifornire il propulsore principale e azionarlo, così potrò stabilizzare l'orbita. Registro personale, ufficiale tecnico Jacob Temple. Sono passati due giorni da quando hanno perforato quel pianeta, dalla morte del capitano. Il panico, le rivolte, non erano nulla, visto quello che è successo dopo. I nostri amici, i colleghi hanno iniziato a tornare, cambiati, a tornare per ucciderci, per portarci via. Racker è sparito stamattina e sono sicuro che ormai sia morto. I miei uomini iniziano a cedere. Sto cercando di tenerli sotto controllo, ma ora ho problemi più gravi. Stiamo perdendo carburante, il propulsore primario quasi non regge più. Denver 6 e io cercheremo di raggiungere il deposito carburante per le riparazioni. Temple, chiudo. Sto cercando di più. Cosa diavolo sta succedendo qui? Anderson! È impazzito! Si sta zappando i denti! Anderson, per l'amor di Dio! Oh Dio! Marco! Calma! È vivo, però ha battuto violentemente contro quella porta! Merda! Ma perché ha fatto una cosa del genere? Non capisco! Ma perché ha fatto una cosa del genere? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no, 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 no Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Mi senti? Sono Kendra! Mi hanno attaccato! Sono fuggita! È Emond! Lui è scomparso! Kendra! Dove ti trovi? Felice di vederti sano e salvo, Emond! Sono barricata nel nucleo del computer! Le sento che si muovono all'esterno, ma non credo che sappiano che sono qui! Posso collegarmi a tutto da qui? Ho violato il sistema e ho trovato dei rapporti della colonia. Già prima di iniziare le operazioni, fra i coloni si erano verificati episodi di follia. Pare siano collegati a un manufatto trovato sul pianeta, qualcosa chiamato il marchio. Continuerò a indagare. Ho la tua posizione, sblocco l'ingresso del deposito combustibile. Da lì puoi raggiungere la camera del motore.